Grazie, buonasera a tutti. Posso iniziare con un sfondaggio? Quante persone pensano di conoscere bene la buona scuola? Tanti si sono informati sulla buona scuola attraverso la rete, attraverso lo soggio. Questo è un campionamento per dire che in sostanza noi non riusciamo più a ricevere informazioni dalla nostra informazione pubblica che è Rai 1, Rai 2, Rai 3 e che in sostanza oggi è in mano al Partito Democratico che ha eletto un amministratore delegato che sceglierà tutti i dirigenti, non più in un consiglio di amministrazione insieme ad altri consiglieri ma da solo sceglierà i dirigenti delle testate dei Tg, i dirigenti delle rifi e si farà informazione del Partito Democratico. Dall'altra parte abbiamo l'informazione di Mediaset, di Berlusconi che sostanzialmente naturalmente portato al suo mulino del centro-destra e a noi non è altro rimasto che un'informazione fatta dai cittadini, informazione fatta dai cittadini che si mettono in rete, che cercano di potenziarla attraverso la rete e forse l'unica vera rete pubblica che è rimasta in questo paese, la rete che possiamo costituire noi utilizzando la rete internet ma anche utilizzando il passato all'opera. C'è la famosa teoria dei sette stati che attraverso sette stati ognuno dì come può arrivare a qualsiasi persona nel mondo. Sette passaggi di trasposizione dell'informazione. E allora questo ci dimostra che la propaganda del Partito Democratico è molto forte, è una grande che è forte perché poi si può, ed è anche pericolosa. Perché pericolosa? Perché è pericolosa nel momento in cui vediamo che legati ai provvedimenti del governo ci sono delle morte. Successo nel caso Banca Etruria, succede con il caso del distesso idrogeologico e succede anche con la scuola. E quindi diciamo è una sorta di autodifesa quello che dobbiamo fare noi attraverso l'informazione, attraverso il passaparola. Qual è una delle cose con cui ci hanno truffato? Ci hanno truffato con i soldi all'edilizio scolastico, in un gruppo di questi. Hanno speso, proprio questa settimana ne abbiamo discusso in aula, 1,7 miliardi di euro per fare appalti nelle scuole. Ora tutti conosciamo la situazione, l'ha appena illustrata Michela, eppure questi soldi, 1,7 miliardi di euro, non sono andati in sicurezza, sono andati a salvare le vite dei lavoratori della scuola e degli studenti, no. 1,7 miliardi sono stati appaltati a coperative rosse, coperative bianche e vitte amiche di amici. Questo perché mi dico che è così? Mi dico che è così per due motivi. Uno, l'ONU per fare questi appalti tengono fuori l'assunzione di 13 mila lavoratori del personale scolastico, cioè il lavoro che prima si faceva con questo personale scolastico, oggi lo si fa a mogli appalti e costa il doppio. prima spendevo 700 milioni per fare lavorare direttamente il personale scolastico, oggi spendo 1,7 miliardi per dare gli appalti ai miei amici. Secondo motivo, l'antitrust ha contannato queste ditte dicendo che si sono messe d'accordo per dividersi gli appalti e hanno pagato, queste ditte hanno pagato 110 miliardi. Chi sono queste ditte? Una di queste l'ha pronunciata ancora una volta a Michela, la Manutenco. Il presidente della Manutenco è indagato per vari reati, tra truffa aggravata, truffa di vadassa, non l'ultimo è convolto nell'inchiesta di Expo. Finanziava la campagna elettorale di Fassino. È storico del Partito comunista italiano e molto conoscente, stretto, del Ministro del Lavoro Povetti che presideva la Lega Pop fino a prima di diventare Ministro. Questo è quello che succede con i nostri soldi e quando succede questo significa che gli amministratori locali non possono risparmiare soldi per investire in trasporto pubblico o in asilo nido. Abbiamo, come abbiamo visto, meno posti di lavoro e soprattutto abbiamo i problemi che quello che poi dovrebbe essere fatto, la pulizia nelle scuole, la tinteggiatura, le famose scuole belle, sono soldi che vanno sprecate in un senso, poi ci sono scuole belle che vengono tinteggiate e chiuse, perché come poi non sono messe in sicurezza. Il tuo pello di solito, Gino, che ha visto tra l'altro raddoppiare il numero di persone di queste ditte nel corso di 15 anni. Cioè, prima io questo lavoro lo facevo con 11.000 lavoratori, dopo 15 anni lo stesso lavoro lo faccio con 22.000 persone, però come sfruttate all'infinito questo è però con un giochino che magari ti prendi il precario, ti prendi la persona interinale, ti fai fare qualche lavoro e magari ogni tre anni questa persona, siccome gli appalti poi si rinnovano così, sta sempre sotto la dittatura di ricevere o non ricevere quel posto di lavoro. Questo è il quadro, diciamo, di quello che non vi racconto, è quello che noi cerchiamo di denunciare in aula e di far diffondere. il tema delle cooperative, vedete come entra a pieno titolo all'interno, diciamo, anche della scuola. Ma questo, diciamo, dell'utilizzo del denaro anche di un solo euro, per noi è una cosa fondamentale, noi che abbiamo deciso anche di restituire parte del nostro stipendio e dedicarlo alle piccole e medie. In Campania, per esempio, i consiglieri regionali hanno restituito la prima parte del proprio stipendio pagando le attrezzature di un laboratorio, di una scuola di Benevento che era stata sommersa dall'inondazione che ci sono stati pochi mesi fa. Hanno restituito 105.000 euro per ricostruire il laboratorio di una scuola professionale che era andata distrutta. Ma non c'è solo questo aspetto, naturalmente, nella buona scuola, quello che viene chiamato dopo una scuola, ma c'è una vera anche mercificazione. Uno dei punti fondamentali è questo. Prima si parte con precarizzare il personale della scuola. Perché lo si precarizza il personale della scuola? Perché il dirigente scolastico può decidere di mandare il personale dopo tre anni in un'altra scuola. Perché non gli è piaciuto? Allora, io sono un docente di elettronica. Dal 2005 insegno nelle scuole e ho incontrato tanti dirigenti scolastici. Il primo dirigente scolastico che ho incontrato non voleva assumermi perché voleva assumere una persona del posto. E' un trentino alto adige. Quindi succede in tutte le parti del mondo questa cosa. Ho dovuto mandare una lettera d'avvocato per far valere i miei diritti. Ora, in questo caso, il dirigente scolastico, naturalmente, non ha il piacere di avere all'interno di una scuola una persona che gli manda le lettere dell'avvocato. Sono stato in un'altra scuola, questa volta, ad esempio, in provincia di Cosenza, il dirigente scolastico è venuto a sindacare come rivestivo, qual era il mio abbigliamento. Poi sono stato in un'altra scuola dove il dirigente scolastico ha costruito una vera e propria comunità che funzionava, che portava valore aggiunto agli studenti. ma noi possiamo lasciare al caso questa cosa. Possiamo lasciare anche alla valutazione di un ministero che sta in mano al Partito Democratico dei singoli dirigenti, sceglierà quali saranno i dirigenti che si stanno comportando bene o che si stanno comportando male. La scuola, per come l'abbiamo, io l'ho vissuta, per raggiungere il suo massimo della forza quando riesce a costruire quella comunità importante che riesce a costruire una rete sociale attorno ai giovani, attorno agli studenti e non un sistema di figli di obbedienza che viene dal ministero fino ad arrivare ai dirigenti scolastici, fino ad arrivare al docente. Non è, diciamo, questo il modello della Costituzione che vuole una scuola comandata dall'alto da un solo uomo. Ma c'è anche l'aspetto di diversificazione nella scuola. Proprio in queste settimane noi abbiamo discorso con il Ministero dell'Istituzione due interrogazioni. una che riguardava McDonald's. Ma cosa c'entra McDonald's con la scuola? C'entra perché le nostre scuole, il governo ha detto che non riuscirà mai a dare tutti i soldi che servono alla scuola e quindi bisogna rivolgersi ai privati. Allora, ecco la scenetta che succede nella nostra scuola. non stiamo parlando di una repubblica sudamericana in mano a qualche dittatore dimenticato. No, alla scuola italiana succede che la maestra entra in classe, apre il suo registro, fa l'appello, chiama i bambini e dice caro Giovanni, quanti bollini di McDonald's mi hai portato oggi? Il bambino si alza, maestra ho cinque bollini e le dà la maestra. Così finisce l'appello, la maestra raccoglie i bollini di McDonald's e li conserva. Perché a fine anno questa raccolta di bollini permetterà alla scuola di acquistare del materiale didattico. Perché questi bollini verranno portati da McDonald's e McDonald's comprerà del materiale didattico. e queste notizie naturalmente fanno anche sponsorizzazione a McDonald's. A Ferrara ha portato materiale di 80.000 euro in una scuola a McDonald's dopo che tutte le famiglie avevano speso 500.000 euro nella sua azienda. Abbiamo fatto un altro question time questa settimana sul caso dell'insegnamento di musica in una scuola che veniva fatta attraverso la società Yamaha che produce strumenti musicali. Questa società insegnava musica ai bambini durante l'orario pubblicolare, cioè la mattina. e le famiglie per poter mandare a scuola la mattina i propri figli dovevano pagare una quota di 50 euro. E per poter far seguire la materia di musica che sta nell'orario pubblicolare dovevano pagare una quota di 50 euro. Quelli che non l'hanno pagato hanno tenuto l'insegnamento ha dovuto tenere i bambini fuori dalla classe e alla fine è arrivato anche la pagella a dire questo ragazzo io non ho la possibilità di valutarlo perché non è mai venuto al corso di Yamaha. Questo significa solo una cosa significa il supermercato delle discipline significa la mercificazione più totale dei saperi significa che scienze dell'alimentazione prima o poi lo insegnerà a McDonald's da elettronica lo insegnerà la Samsung e i genitori si pagheranno i singoli corsi a scuola alle varie multinazionali. Ma è normale se c'è un governo che non scrive i provvedimenti ma se li fa scrivere da Confindustria e dalle multinazionali. È normale che poi si fa... Questo è quello che noi abbiamo annunciato che è la fine della scuola pubblica e contro tutto questo noi stiamo cercando di poter un freddo perché io vi dico che arrivare in Parlamento e vedere fare spavrucce ai ministeri quando gli perpondi queste domande sconvolgerebbero tutte ma siccome è tutto silenziato siccome queste cose ce le riesciamo solo in questa stanza o attraverso i social il ministero dell'istruzione è il governo come sono i sogni tranquilli però è arrivato il momento che noi cominciamo a cercare di far girare le informazioni giuste a parlare con le persone perché siamo noi come dicevo all'inizio l'unica rete pubblica di informazione che può veramente portare l'Italia in una nuova fase. Grazie